L'aspetto interessante della cultura cinese riguarda proprio la cultura dell'arte. Infatti mi ha molto impressionato vedere come gli artisti cinesi hanno saputo toccare con così tanta immediatezza e efficienza i temi della cultura occidentale. E questo mi ha proprio dato un chiaro messaggio di quanto la cultura cinese possa evolversi e possano le nostre culture unirsi per contribuire a realizzare una vita migliore in questo pianeta. L'architettura dopo tutto serve a questo, serve a immaginarsi un modo di vivere comune, collettivo, più arricchente per ciascuno e più confortevole ma anche più visionario, più fantasioso. Il vantaggio che abbiamo come uomini rispetto a tutti gli altri animali è di potersi immaginare un futuro migliore.